buongiorno buongiorno a Brenno Bianchi amministratore e socio fondatore della piccola casa editrice nata da meno di un anno le lucerne casa editrice che come ci racconterai è nata in un periodo decisamente poco felice ma lo stesso con dei buoni progetti dei buoni propositi sì vorrei salutare tutti quelli che ci stanno seguendo la nostra casa editrice una realtà molto piccola che diciamo si è costituita in questo periodo turbolento infatti ci siamo costituiti esattamente il giorno prima del lockdown alla camera di commercio di milano in un clima post apocalittico in cui siamo stati letteralmente l'ultimo atto registrato alla camera di commercio con i funzionari che facevano di tutto per farci mandare per farci andare via e nonostante questo siamo riusciti comunque a stampare per il 2020 quattro libri in due collane collana dei processi immaginari della collana barlumi che hanno avuto anche un discreto riscontro da parte del pubblico diciamo ecco allora partiamo da questa collana con questo titolo curioso i processi immaginari che al momento conta tre volumi si tre titoli ce li vuoi mostrare se abbiamo il processo a appunti a pilato con gerardo colombo abbiamo il processo a diego armando varadona con parte la bocca a proprio tranquillo e claudio botti e processo a oscar wild con vincenzo piscitelli e fabbio canino il curatore poi di tutta questa collana e che interviene in tutti i libri è il magistrato antonio salvati infatti questi libri sono stati realizzati in collaborazione col festival di diritto e la letteratura della città di palmi che si tiene ogni anno ormai da circa otto anni ed è una stupenda realtà che si conclude diciamo il festival ogni anno mettendo in scena un vero e proprio processo a un personaggio della storia o della letteratura con tanto di avvocati il cancelliere del pubblico ministero delle requisitorie e noi abbiamo deciso di creare questi volumetti molto agili sono 120 pagine l'una rimettendo insieme diciamo quello che si tiene al festival in maniera che chiunque possa poi andare a leggere questa bellissima di questa bellissima realtà quindi sostanzialmente sono una replica un una sintesi una replica di tutta la questo processo che viene allestito al festival diciamo abbiamo dovuto fare un molto lavoro di editing perché gli avvocati hanno questa tendenza di parlare a braccio e quindi abbiamo dovuto rimettere tutto per iscritto in una buona formulazione molto chiara anche per leggerli però sono come dire interessanti perché rappresentano un approccio diverso al tema del diritto rispetto a quelli che solitamente molto in ball city si trovano in giro infatti uno spirito della nostra casa editrice è quella di mettere in risalto l'attività del giurista come quella di un intellettuale a tutto tondo e anche per questo diciamo siamo sempre andati a cercare delle chicche diciamo da poter pubblicare ecco il l'altra collana ci accennavi si intitola bar lumi e anche questa l'unica pubblicazione che avete in catalogo ad oggi e ha una sua particolarità si è una dicono che i versi di poesia giorno d'oggi non vendono noi invece abbiamo avuto molto successo con questa raccolta di rime di jacopo pensa che è un avvocato milanese che dal 1983 ogni anno manda un talloncino di auguri a tutti gli avvocati del foro di milano comprendendo una poesia in ottonari in cui raccoglie diciamo tutti gli eventi politici e giuridici che sono corsi nell'anno e ne fa una satira concludendosi con una diciamo auguro di buon natale per l'occasione e quindi noi abbiamo raccolto tutte queste poesie che l'avvocato pensa ha redatto dal 1983 fino ad oggi e siamo arrivati quindi a realizzare questo volume che con la prefazione del professor Tullio Padovani e di Pippo Baudo tra parentesi che si sono prestati a questo volume e questo qui è il primo volume diciamo di poesie che abbiamo stilato anche se ne abbiamo in programma altri quindi voi avete affrontato con grande coraggio il 2020 è stato un anno positivo per voi perché avete pubblicato quattro libri che come dicevi sono andati comunque bene cosa avete in servo per il 2021? Sì per noi il 2020 è stato un anno cruciale perché comunque abbiamo avuto un buon risposto da parte del pubblico e nelle vendite e non era scontato anche perché io e l'altro mio socio Pasquale Tamaro non è che avessimo alcuna esperienza nella gestione di una società siamo una SRL, startup innovativa e chiaramente abbiamo avuto a che fare con molti adempimenti burocratici che abbiamo dovuto svolgere autonomamente. Per il 2021 abbiamo in programma di rilanciare stampare circa 8 o 9 libri stiamo lavorando a un libro ad esempio per una collana di diritto e letteratura orientale scritto da un professore italiano che però insegna in Giappone su quelli che sono diciamo i miti giapponesi che riguardano il diritto siamo diciamo andati alla ricerca dell'antigone giapponese come l'antigone è così cruciale per diciamo la cultura giuridica occidentale ci siamo domandati in altri paesi orientali quali fossero i loro miti alla base della loro concezione giuridica. Stiamo lavorando anche a un serie di due volumi in cui spieghiamo il diritto privato utilizzando esempi tratti dalle fiabe o dai cartoni disney per la collana diritto e fiabe stiamo lavorando e siamo in contatto con un postulatore delle cause dei santi che sta lavorando a un libro sui tre processi che ha subito giovanna d'arco quelli di due di eresia e poi successivamente quello di santificazione negli anni venti. Stiamo anche lavorando a un libro con una notaia in pensione che si è trovata diciamo ad aver acquistato una per il periodo della pensione un attico su un palazzo nella riviera romagnola e si è trovata poi successivamente dalla pace nell'inferno di vivere in una località in cui tutti gli stabilimenti balneari sulla costa si sono trovati a organizzare feste tutte le sere e chiaramente lei viveva in questo rimbombo assurdo di musiche e probabilmente lo pubblicheremo col nome molto provocatorio di Contro la Movida. Mi sembrano tutti progetti molto originali molto interessanti e curiosi io vi faccio un grosso in bocca al lupo e ti chiedo di concludere il questo tempo che ci hai dedicato con indicandoci il sito internet dove andare ad approfondire e cercare i vostri libri. Il nostro sito internet è lelucerne.com e gestiamo anche una testata online registrata presso il tribunale di Milano che è massimedalpassato.it Grazie Brenno Bianchi e grazie alle lucerne. Grazie a te